Buonasera e benvenuti a tutti nella nostra splendida Galleria dell'Accademia. Vedete che le prime opere d'arte ci sono già state rubate. L'Andrea del Sarto è di là nella mostra di Pierfrancesco Foschi, che vi consiglio. Faccio un po' di pubblicità perché è la prima monografica in Europa su questo pittore ed è una vera scoperta. Siamo molto felici di questa mostra. Questa sera presentiamo un volume che ho assolutamente voluto, che mette insieme per la prima volta tutte le opere pittoriche della Galleria dell'Accademia di Firenze. E questo mi sembra uno strumento molto importante, che mette insieme anche la storia del museo, la storia delle collezioni e come arrivano collezioni in un museo. È stato un lavoro, un lavoro abbastanza importante perché abbiamo dovuto fotografare tutte le opere, a parte che forse siamo l'unico museo in Italia che ha digitalizzato tutte le opere che abbiamo. abbiamo fatto prendere le misure di tutte le pitture che non esistevano e abbiamo messo insieme il tutto in un libro che voleva essere un libro, non un mattone. Mi faceva molto piacere, sono felicissima, che il carissimo amico Carlo Sisi, che tra l'altro è il presidente, come sappiamo, della diacente Accademia di Belle Arti, dalla quale noi nasciamo, che lui ci presenterà questo libro. Spero lo trovi bello, non ci siamo ancora scambiati su questo, nel caso staccheremo il microfono. Comunque mi piace questa cosa perché queste due istituzioni hanno cominciato a lavorare intensamente insieme proprio con l'autonomia del museo. nel 2015 ci siamo avvicinati molto e abbiamo riportato alle tradizioni di una radice comune questi due istituti e la nostra collezione nasce proprio come una collezione di studio didattica dell'Accademia di Belle Arti. Poi si è sviluppata in altre direzioni, ma tutto questo ora ci spiegherà Carlo cosa c'è da spiegare e parlerà di questo libro che lui vede oggi per la prima volta, ma aveva un pdf, non è che non si sia preparato. Ringrazio di cuore gli autori di questo libro che sono qui con noi, intanto Elvira Altiero, la nostra funzionaria storico-artistica unica che avevamo per due anni, che si è impegnata insieme a degli aiuti esterni, Maria Antonia Rinaldi, che avevo già visto prima e che anche lei è qui, e anche Andrea Di Lorenzo, che è entrato più tardi in questi lavori, ma una che ha tenuto molto insieme le fila è la nostra cara Federica Baldini, che non solo ha scritto dei testi, ma anche ha avuto tanti contatti con la casa editrice e ho visto che è arrivato infine nell'ultima fila anche Mario Curia della casa editrice Mandragora, che ha prodotto veramente un libro eccelso, anche Mario ne era felicissimo, infatti mi ha mandato una foto fresco di stampa e ha scritto che è bellissimo perché questi cataloghi poi sono non solo belli ma anche utili, quindi questo è il piccolo gruppo, il piccolo staff che ha messo insieme le cose, ringrazio ovviamente anche gli aiuti che ho avuto negli anni che abbiamo avuto per le nuove attribuzioni per il comitato scientifico da parte di Andrea De Marchi, da parte di Carl Strelke, Alessandro Tomei, come anche Carlo Falciani, Carlo Sisi comunque sempre, che ci hanno accompagnato in questo percorso in varie fasi. Sento squillare un cellulare e quindi colgo l'occasione per chiedere di spegnere i cellulari e sono felice di poter passare la parola a Carlo Sisi. Ci sono varie ragioni per cui ho accolto volentieri l'invito a presentare questo volume che è un repertorio, quindi è una categoria degli studi e della conservazione molto particolare. Parlare oggi di conservazione è parlare di qualcosa di eccentrico, oggi vale più la promozione, però in questo museo vale invece il metodo Holberg, che è un metodo che vorrei riassumere anche con la presunzione di essere stato un vicino di casa curioso e origliante, perché abbiamo un'unica porta che ci divide tra l'Accademia di Belle Arti e il Museo dell'Accademia e quindi ho avuto proprio la possibilità di capire la consecuzione dell'esperienza di Cecilia Holberg all'interno del Museo dell'Accademia. L'attenzione alla struttura, alla struttura architettonica. Un museo ha bisogno naturalmente di essere consolidato, di essere bonificato, di essere climatizzato e Cecilia lo ha fatto con una pertinacia che ha coinvolto la sala del Colosso, le sale adiacenti e soprattutto, una cosa che mi trova particolarmente concorde, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini. C'è stato poi un'attenzione all'aspetto didattico e quindi ad una promozione che non è di immagine, ma una promozione di saperi e quindi un approfondimento attraverso i mezzi contemporanei aggiornati, appena detto della digitalizzazione, non è un fatto ovvio quello che un museo possa essere consultato a distanza in maniera efficace e praticamente completa. Un aspetto di carattere museografico, la conservazione e il miglioramento di un monumento della museografia recente che è l'allestimento della gipsoteca che parte da un'idea di Sandra Pinto che è stata nella storia della museografia italiana del Novecento un apice assolutamente straordinario. E Firenze ha avuto il beneficio di avere Sandra Pinto alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti e poi nel riallestimento dei gessi di Lorenzo Bartolini che erano stati offesi dall'alluvione del 1966. Un'altra cosa, l'aspetto estetico, l'illuminotecnica. Il museo ha ora una specie di viatico fisiologico, come dire, liricamente fisiologico, che è questo accompagnamento delle luci che ci consentono, lo vedete già qui con i prigioni e la pietà di Palestrina, di percepire persino la pelle marmorea, la tecnica esecutiva delle opere, la capacità quindi di trasformare un episodio illuminotecnico in un atto critico. E questo è un altro aspetto del metodo Holberg. Tutto questo è stato fatto nel tempo, ci sono state occasioni, le varie inaugurazioni, le varie possibilità di mettere a fuoco i gradini di questa ascesa museografica che ha portato l'Accademia a questo livello ed ora con una notevole responsabilità il catalogo repertorio. Questa è, come dire, un'eredità importantissima perché il bravo padrone di casa mette a posto i cassetti, sta attento che i libri siano organizzati in maniera organica e leggibile. Ebbene, questo repertorio è finalmente una guida dettagliatissima con una sintesi, ma nello stesso tempo una esauriente raccolta di dati che proprio nella parola repertorio ha la sua importante significazione. Il coordinamento della direttrice di Cecilia Holberg ha avuto come autori delle schede, sono già stati in parte citati, Elvira Altiero, Federica Baldini, Andrea Di Lorenzo e Maria Antonia Rinaldi. Le opere censite sono quelle che vediamo intorno a noi nella Sala del Colosso in tutti gli ambienti dell'Accademia, escluso le parti di scultura. Ha già accennato la direttrice a questa vicinanza che poi è attestata dalla copertina del catalogo. Una recente acquisizione, il quadro di Odoardo Borrani, che sapete è uno dei protagonisti del Caffè Michelangelo, quello che aveva più a cuore l'attenzione agli ambienti storici della città. Straordinari sono i suoi quadri del Bargello, dove lui addirittura allestisce dei tableaux vivants nel momento in cui il Bargello veniva ricucito in chiave neogotica da Gaetano Bianchi. E quindi questo quadro è significativo. Significativo perché? Perché rappresenta la situazione della galleria dell'Accademia ai tempi di quell'organismo che collegava la parte didattica, cioè l'Accademia di Belle Arti, con il museo in cui i giovani allievi dell'Accademia venivano a studiare i maestri. Dobbiamo rifarci ad un tempo molto significativo che è l'arrivo a Firenze di Pietro Leopoldo, d'Asburgo Lorena. È inutile vi dica la fondamentale presenza di Pietro Leopoldo in una città che si modernizza soprattutto nelle sue istituzioni. E Pietro Leopoldo, tra l'altro, mette mano alla riforma dell'Accademia delle Arti del Disegno, che è la madre dell'Accademia di Belle Arti, facendola diventare un luogo celebrativo della memoria del disegno fiorentino e attraverso di questo di Michelangelo, e nello stesso tempo pensa di mettere a fuoco un aspetto a cui lui teneva particolarmente, che era la promozione delle arti. E allora crea questo angolo incredibile, questo quadrilatero in cui ci troviamo, che collega fra di loro l'Accademia di Belle Arti, la Galleria dell'Accademia, l'Opificio delle Pietredure, o come si chiamava allora la Galleria dei Lavori, e il Conservatorio di Musica. Era, come dire, il sincretismo delle arti, la volontà di creare un polo di riferimento per la produzione contemporanea. Però produzione contemporanea avveniva soltanto se i giovani studiavano i maestri e studiavano il principio fondamentale della cultura accademica, che era il primato del disegno, come dettava appunto Giorgio Vasari. E alla Galleria dell'Accademia, che allora era la Galleria dell'Accademia di Belle Arti, venivano raccolte le opere che, tutto questo viene detto molto bene nell'introduzione al repertorio, che provenivano dalle soppressioni, perché Pietro Leopoldo, nel momento in cui riforma gli istituti di formazione, procede alla riforma, anche alla chiusura dei conventi e delle manomorte ecclesiastiche, e quindi moltissimi quadri transitano dentro la Galleria dell'Accademia, che diventa la galleria dei quadri antichi a disposizione degli allievi, naturalmente, senza pregiudizi. Era chiaro che si privilegiavano i grandi quadri di Andrea del Sarto, di Franciabigio, i cosiddetti maestri senza errori, perché i pittori medievali erano connotati come pittori primitivi e quindi venivano guardati ancora con un certo sospetto, però nello stesso tempo il Granduca decide, proprio per la promozione della capacità giovanile di produrre arte allora contemporanea, di allegare alla Galleria dei quadri antichi la Galleria dei Quadri Moderni, ossia i quadri che venivano premiati alle esposizioni annuali dell'Accademia di Belle Arti. E qui, nel percorso del museo, vi accorgete che i primitivi, i pittori del Quattrocento, i grandi maestri del Cinquecento, qui nel transetto, che erano amatissimi perché il classicismo era la linea che più salvaguardava il valore del disegno, approda poi il percorso nella gipsoteca. E nella gipsoteca l'idea di Sandar Pinto fu quella di collegare ai gessi di Bartolini e di Pampaloni, di Ulisse Cambi e di altri scultori che lavoravano proprio all'Accademia di Belle Arti, anche i quadri dei premiati. Quindi quando vedete la gipsoteca e vedete i quadri che stanno intorno, come uno dei capolavori del Poetica Purista, ossia la musica sacra, di Luigi Mussini, che fu un manifesto fondamentale nel 1842 di promozione delle arti contemporanee, tutto questo avveniva nella coscienza del Gran Duca e dei direttori dell'Accademia, a cominciare dal grande Giovanni degli Alessandri, di collegare l'antico e il moderno, la galleria dei quadri antichi e la galleria dei quadri moderni. E quindi il complesso era un complesso che collegava perfettamente il tema della didattica con il tema degli studi e del recupero dei pittori antichi accanto a quelli moderni. Bisogna aspettare il 1882 e precisamente il 13 marzo del 1882 per vedere un decreto che separa definitivamente la galleria di arte antica e moderna dall'istituto didattico. E' nell'82 che si divide la galleria dell'Accademia che diventa praticamente museo autonomo e autonomo dalla didattica e la parte didattica che è quella specifica dell'Accademia di Belle Arti. La cosa interessante è che già si pensavano a dei poli museali perché insieme a questa galleria vennero aggregati due poli importantissimi per l'arte cinquecentesca ossia il Chiostro dello Scalzo e il Chiostro della Santissima Annunziata che sapete era definita la scuola del mondo perché la presenza di Rosso Fiorentino, di Adria del Sarto e di Pontormo segnavano all'interno del Chiostro della Santissima Annunziata il segno della grande innovazione, del grande mutamento. Nel 1867 viene compilato il primo catalogo relativo alla galleria dell'Accademia, nel 1873 Emilio de Fabris che trionferà con l'idea della grande facciata neorinascimentale, neogotica, neobizzantina di Santa Maria del Fiore decide con l'epico trasferimento della statua del David di costruire questa sorta di santuario laico che appunto trova il suo epicentro nella figura del David. Ricordo che nel 1842 lo stesso Lorenzo Bartolini fu il primo a notare il degrado della statua del David e quindi ebbe lo scrupolo di dire che bisogna ricoverarlo all'interno. Comunque bisognerà aspettare il 1973 perché questo avvenga. Quindi questa è la storia. Poi comincia la storia del tempo presente, quindi il succedersi delle direzioni, la difficoltà anche economica di affrontare certe innovazioni e certe, come dire, messe in sicurezza della galleria stessa, e finalmente con l'autonomia e quindi anche con una capacità di spesa che richiede anche uno sforzo notevole, una capacità vigilante nei confronti della spesa stessa, si è arrivati appunto a quello che vi dicevo prima, a quel percorso che coniuga i temi della conservazione, i temi della didattica, i temi dell'illuminotecnica, i temi della museografia, insomma un complesso organico di elementi molto positivi che fanno della galleria dell'Accademia, credo, uno degli esempi internazionali di gestione museale. E non lo dico perché è presente la nostra Cecilia, anche perché ci siamo trovati molto spesso a discutere, soprattutto contendendoci gli spazi, e quindi lo dico proprio con grande ammirazione e condivisione. Tutto questo è avvenuto dal 2020 al 2023. Questo è stato l'arco di tempo in cui vi ho narrato la vicenda che poi porta appunto a questo repertorio. Il repertorio ha una sua, come dire, lucidità di consultazione che, come dire, aiuta il lettore a trovare le cose, non soltanto l'ordine alfabetico, che è naturalmente un aiuto importante, ma anche una cadenza che trova nel blocchetto della voce provenienza, devo dire un elemento avvincente, perché seguire la storia dei quadri è un aspetto assolutamente suggestivo e molto coinvolgente. Quali sono le fonti di provenienza? L'ho già detto, le soppressioni, quindi diciamo all'origine proprio del Museo dell'Accademia, quando era collegato con la didattica dell'Accademia di Belle Arti, le opere provenienti dalle soppressioni sono quelle che facevano lo zoccolo duro di un percorso didattico importantissimo. Le assegnazioni, cioè i depositi territoriali esterni, il deposito delle opere, le donazioni, naturalmente, le confische, proveniente soprattutto da esportazioni illecite e quindi anche l'attenzione da parte di un direttore nel vedere cosa offre questo mercato un po' furtivo, ma che può dare poi al Museo dei vantaggi notevoli. Gli acquisti e le opere in deposito. Quindi queste sono, come dire, le possibilità di accrescimento della collezione. Inutile dire come il repertorio contenga una serie di capolavori da Giotto fino ad arrivare appunto ai grandi quadri del Cinquecento, fino ad arrivare ad una bella selezione di pittura tocentesca come appunto quella di Luigi Mussini. E nel blocchetto provenienze si imparano molte cose. Ad esempio, durante la guerra, queste opere dove erano? Erano o al castello di Monte Guffoni, o a Montespertoli a Poppiano, o al castello di Poppi, o alla villa di Poggio a Caiano. Il percorso è interessante perché alcune opere, si capisce, arrivano direttamente dalle soppressioni alle gallerie dell'Accademia. E quindi possiamo capire fino a, grosso modo, alla metà dell'Ottocento, qual era la consistenza e la potenzialità didattica della galleria dell'Accademia. In età post-unitaria comincia tutto un vagare delle opere, parte sono agli uffizi e poi vengono consegnate all'Accademia, e cioè un movimento che è tipico di un organismo come quello della ricchezza incredibile delle collezioni fiorentine, che in età post-unitaria dovettero, come dire, essere perfettamente selezionate e distribuite. È stato inventato il Bergello come museo dello stile fiorentino e della scultura, è stato inventato il Museo di San Marco, raccogliendo lì tutte le opere di Beato Angelico, e non dimentichiamoci che erano tutte opere che stavano nelle collezioni dei medici, in gran parte, che quindi stavano nella galleria degli uffizi, che poi ha sfarpagliato sculture e opere nei vari musei, secondo proprio una scelta di carattere tematico. C'è anche un'altra cosa molto curiosa, l'assunzione di Perugino. A un certo punto nella sequenza dei luoghi di provenienza si trova Parigi 1810-1817, è il quadro che Napoleone porta a Louvre. E quindi, come dire, leggere questi blocchetti delle provenienze, vi assicuro, è un'avventura di viaggio pittorico assolutamente non indifferente. E devo dire che la pubblicazione, che ha anche una varietà editoriale, proprio di carattere cromatico, che consente subito di separare il dato biografico dell'autore dall'opera da analizzare come repertorio. Quindi io lo sfoglio con una facilità incredibile nel separare la parte, diciamo, biografica dalla parte più strettamente collegata al quadro. E devo dire che, tornando qui spesso alla Galleria dell'Accademia, non posso non ricordare la mia personale esperienza alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, non solo nella memoria che vi dicevo di Sandra Pinto, grande maestra di allestimenti e di ricostruzione di percorsi storici, ma anche un momento importante che ha radicato in noi che lavoravamo all'interno di Palazzo Pitti, Ettore Spalletti con il sottoscritto, Marco Chiarini, Serena Padovani, Cristina Aschengrin-Piacenti, ha maturato una sensibilità nei confronti dell'istituzione museo che ha oggi un'area preistorica. Vi spiego. Andare al museo non è andare a vedere una sequenza di capolavori, come vuole la legge del turismo, ma è entrare per capirne la storia, cioè come è stato costruito il museo. Questo repertorio ce lo racconta passo per passo. Da questo repertorio capiamo come la Galleria dell'Accademia si è costruita nel tempo, fino anche l'evasione momentanea della tavola di Perugino a Parigi. A Palazzo Pitti furono fatte le stesse operazioni, una ricostituzione di un palazzo che testimonia la presenza di tre dinastie. Chi entra a Palazzo Pitti viaggia in una storia che non è soltanto la storia dei capolavori, di Tiziano, di Raffaello e di tutti i grandi che sono raccolti in una crociage, che è quello di una galleria palatina, ma attraversa luoghi dove gli stili, dove le tappezzerie, dove tutto quello che narra di una vita e di una quotidianità, anche se regale e ducale, ci insegna. E quindi entrare nel museo vuol dire non andare a vedere Michelangelo o Perugino, vuol dire entrare a vedere Michelangelo e Perugino, ma soprattutto con un viatico, che è quello di un tessuto storico, che ci fa capire di entrare in un ambiente che ha una sua legittimità, non è un puro contenitore, come si dice, di capolavori, parola terribile, ma è un attraversamento della storia che attraverso la museografia riesce a far capire con una certa difficoltà, ma anche con la gioia della fatica della conoscenza, che forse dobbiamo recuperare, scegliamo l'analisi invece della sintesi, e cominciamo ad imparare quello che dicevano i grandi novecenteschi di fronte all'arte moderna, guardando l'Ottocento è finita l'età di Dioniso e comincia l'età di Hermes, cioè il Novecento è il secolo ermetico, è il secolo che ci spinge a conoscere analiticamente. Purtroppo oggi ritorniamo a questa sintesi bidimensionale degli strumenti che intermediano la conoscenza, che possono essere utili per fare questo, quello senz'altro, però è chiaro che noi dobbiamo, entrando in questi luoghi, capire che l'analisi logica ci insegna la storia, ci insegna anche l'evasione sentimentale, ma anche ci dice che siamo identificati come coloro che sono capaci di distinguere all'interno di questo percorso degli elementi come quelli che il repertorio dimostra. La separazione tra la didattica e il museo, una storia che è data da una geniale invenzione di Pietro Leopoldo e quindi capire che la storia ha un suo valore, che è il concetto di continuità. Come dire, liberiamo in noi questa possibilità di valutare la continuità della storia pensando che la contemporaneità è sempre stata nei tempi. Grazie. Ringrazio Carlo Sisi che come sempre, ogni discorso, ora lo stamperemo, secondo me lo stamperemo, faremo il secondo volume. Io volevo anche aggiungere che questo manuale è una cosa molto utile anche per ritrovare delle opere. Infatti oggi ho avuto una chiamata dal nucleo, ci arriverà un'altra opera confiscata. Ed è bello, siamo in un'era digitale, però quello che rimarrà per il futuro, anche senza server, anche senza trasposizioni, eccetera, eccetera, saranno proprio i libri, un libro che uno sfoglia, nel quale si fa i commenti e magari trova anche, ora vi sollecito a sfogliare questo libro e a trovare magari i frammenti mancanti delle nostre opere sui soffitti dalle vostre amiche, nonne, nonni. Insomma, a parte gli scherzi è questo proprio un volume che ferma lo stato dell'arte di questo museo, quali opere ci sono adesso in questo momento e anche dopo 50 anni uno lo ripesca e finalmente sappiamo che cosa c'era. Una domanda che noi spesso ci facciamo, ma dove era quest'opera e andiamo a cercare sugli schedari, nell'archivio, eccetera. Quindi questo è il lavoro svolto, voglio ringraziare ancora una volta, veramente anche per la pazienza, Mario Curia con il suo staff che sono stati molto pazienti con me perché io volevo inserire proprio l'ultima acquisizione che ho fatto quest'anno, volevo inserire anche l'opera di Guido da Siena che abbiamo dato in deposito a Siena, noi avevamo la parte centrale, io nel mio ufficio e mi manca tanto, loro avevano i laterali, però cosa ci fa questa madonna foresta in un museo fiorentino? Quindi era giusto ricollegare, rimettere insieme e quindi tutto questo adesso è fermato in questo libro. Questo mi fa molto piacere, ringrazio tutto il personale del museo perché senza ovviamente la nostra onnipresente restauratrice Leonora Pucci che ha tenuto insieme tutte queste movimentazioni in tre anni di cantieri con l'aiuto anche di Rossella Lari, è sempre stato un aiuto e loro sono coloro che proprio curano le nostre opere di persona e quindi noi le mettiamo adesso a disposizione di tutti quanti, seguirà ovviamente anche una messa online delle singole opere. Grazie ancora a Mandragora per questo ottimo lavoro svolto e la grafica molto pulita come io adoro senza tutti questi cosi neo, cosa hai detto prima neo bizantini, neo gotici, neo non so cosa e quindi ora vi siete meritati un bel aperitivo pre natalizio, vi invito tutti a venire con noi nel bookshop e festeggiamo la fine di questi pesanti lavori con un gioioso brindisi, colgo il momento per augurare un sereno Natale e un felice e sano 2024. Grazie.